Recita tre volte al giorno per nove giorni questa preghiera, per proteggere la famiglia dall'invidia e dalla malizia. Benvenuti, cari amici, in questa preghiera dedicata alla protezione della famiglia, dall'invidia e dalla malizia delle persone che desiderano farci del male. In un mondo in cui l'invidia può essere una forza distruttiva, è importante rivolgerci al Signore Dio, alla Santa Vergine Maria e a Gesù Cristo per ottenere la loro protezione e guidarci lungo il cammino della pace e dell'amore familiare. Uniamoci insieme in questo momento di preghiera, chiedendo la loro grazia e il loro perdono, affinché possiamo vivere nella luce e nella verità di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Signore Dio, Padre misericordioso, ti rivolgiamo questa preghiera con umiltà e fiducia, chiedendoti protezione per la nostra famiglia davanti all'invidia e alla malizia degli altri. Santa Vergine Maria, Madre di amore e misericordia, ti preghiamo di vegliare su di noi con il tuo manto protettivo, guidaci lungo il cammino della pace e dell'amore, e allontana da noi ogni male e ogni pensiero nefasto. Gesù, nostro Salvatore e Redentore, concedici la tua grazia e il tuo perdono, affinché possiamo resistere alle tentazioni dell'invidia, e vivere nella tua luce e nella tua verità. Proteggici, O Dio, dalle malelingue e dalle cattiverie, fa che il nostro amore familiare sia un baluardo contro il male, e che la nostra fede in te ci guidi attraverso ogni prova, affinché possiamo vivere nella pace e nell'armonia. Conceggi, O Signore, la forza di perdonare coloro che ci offendono, e l'amore di pregare per coloro che ci desiderano male, affinché possiamo essere testimoni della tua misericordia e vivere secondo la tua volontà. Ti lodiamo e ti ringraziamo, O Dio, per la tua protezione e la tua guida costante, e affidiamo a te la nostra famiglia, ora e sempre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie a tutti